cari amici oggi voglio parlarvi di una penna americana che però nasconda un cuore europeo stiamo parlando di questa piccola pennetta della spolding credo che molti di voi ne abbiano viste in giro insomma in tantissimi negozi se ne trovano facilmente sono coloratissime adesso questa è una ebrea arancione bello sparato ma è un bellissimo colore ma ne hanno veramente anzi quello è un punto di forza sicuramente da penna cioè il fatto di poter avere tantissimi colori quindi livre coloratissime e anche molto interessanti perché la penna appunto ha un cuore europeo perché praticamente la spolding è un'azienda di pelletteria di strumenti da scrittura e zaino eccetera americana però monta un pennino tedesco no ecco si riconosce facilmente anche proprio dalla classica forma poi vedete i ridi un sono pennini ottimi pennini molto scorrevoli insomma insomma ci si fanno delle belle cose sono ottimi pennini e quindi questa azienda americana per il pennino ha preferito rivolgersi a una azienda tedesca e ma e questo insomma ci conforta perché avremo sensazioni di scrittura sicuramente notevoli cosa dire sulla penna è veramente come ho detto prima una pennetta perché ha delle dimensioni molto molto contenute perché appunto se vado a confrontarla con altre penne classiche appunto qua una pilot 743 vedete che la penna scompare no è veramente piccolina però è molto simpatica e stiamo parlando di un prezzo intorno ai 30 euro poco meno di 30 euro quindi ha un design curato e ha un corpo e un cappuccio metallico poi verniciato laccato molto bene e quindi non ci sono imperfezioni nella penna insomma si maneggia molto bene chiaramente bisogna almeno nel mio caso perché è veramente corta vedete sono sotto l'incavo naturale della mano quindi con molta difficoltà io riesco a scrivere devo calzare e d'altronde questo è già stato fatto dalla casa produttrice vedete che c'è un innesto qua per calzare il cappuccio scusate ecco devo innestare assolutamente il cappuccio la penna a questo punto diventa utilizzabile ma si manovra assai bene nonostante sia in metallo ha un peso ottimale una cosa negativa che ho rilevato che assolutamente a me la clip è inutilizzabile perché credetemi neanche a prenderla martellata e non si sposta neanche sto facendo veramente molta forza ma rischio di rimetterci l'undia quindi non insisto e quindi insomma è poco fruibile il fatto che abbia la clip va bene come designer ma non riesco a utilizzarla andiamo a vedere ampio un po' il campo cioè scusate stringo il campo di visione eccola qua allora ecco in questo l'ho caricata a chiaramente l'ho dotata di converter un inchiostro handmade mio nero tannico allora a un tratto non è dichiarato ma siamo su un F anche se è bello abbondante è un tratto decisamente abbondante allora la cosa che vi devo poi dire la chiusura non è così agevole perché quando vado a chiudere vado quasi a sporcarmi le mani perché guardate la chiusura dov'è cioè devo prenderla proprio vicino alla punta scrivente al gruppo scrittura quindi rischio di sporcarmi le mani con facilità e poi metallo su metallo tende un po' a svitarsi durante l'uso nel trasporto ok quindi questo è un altro fattore un po' negativo invece per quanto alla scrittura invece lì il suo campo diciamo che questa penna è un muro da scrittura perché il pennino è veramente notevole ha una scorrevolezza tutta sua la condotta lo alimenta molto bene come dico io le penne devono parlare loro insomma questa penna parla come nessuna pretesa ma insomma il suo lavoro lo fa molto egregiamente ok quindi patisce un po' lo star fermo cioè se noi la lasciamo così anche che ne so un minuto bisogna un attimo non ha adesso sta partendo vabbè è un inchiosto un po' lubrificato questo l'aiuta ecco però vedete a volte fa delle false partenze ma solo quando praticamente rimane ferma ecco vedete ha il primo tratto a vuoto ma e bastano veramente pochi secondi a volte però insomma si fa perdonare perché è veramente una penna lo scrivo qua ecco vedete mi si sta allentando qua lo devo riprendere quindi bisogna stringerla veramente forte avessero messo un o-ring qua di insomma di tenuta sarebbe stato meglio quindi ha molti molti tratti positivi questa penna e alcuni purtroppo negativi ad esempio qua a me va bene perché non ho una tenuta della penna un po' arretrata dalla punta quindi vado a pescare diciamo nella zona qua ancora verniciata perché se vado qua ho il fastidio della chiusura a vite e poi non ho una svasatura vedete vado a tronco conico e facilmente mi scivolerebbero le mani verso la punta quindi io non ho particolari problemi con questa punta con questa penna però chi ama scrivere ancora più vicino alla punta e beh lì qualche problema può arrivare ok però nel complesso insomma è una penna molto gradevole scivola bene sul foglio insomma si scia bene sui supporti di scrittura molto scorrevole pattina proprio bene con precisione insomma sono pennini che non hanno bisogno di particolari presentazioni sono proprio i classici pennini tedeschi per eccellenza e poi la penna è veramente gradevole insomma sta dappertutto poi si possono scegliere veramente tantissimi colori tantissimi livret e quindi con un prezzo d'acquisto che appunto sotto i 30 euro mi sembra insomma per questo oggetto un prezzo più che onesto no però vi ripeto fate sempre una valutazione su quelle che sono le cose positive che vi ho detto e quelle negative per procedere a un'eventuale scelta opzione su questo particolare tipo di pennetta e niente con questa considerazione vi saluto come sempre e vi ringrazio ancora per essere stati qua con me ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti